L'associazione, la Duo ONLUS, l'acronimo indica Donne e Uomini nell'organizzazione, intende per impegnarsi per cercare un confronto e perché crede soprattutto nella complementarità dei ruoli e nell'arricchimento che ciascuno di noi può apportare. Oggi affronteremo un tema attualissimo, che è quello della riforma del lavoro. La riforma Renzi, Jobs Act, entrata in vigore nel marzo 2015, già sta cominciando a produrre degli effetti. Ci interroghiamo, giovani e meno giovani. C'è una fase che attiene alla flessibilità e l'altra che dovrebbe riguardare la sicurezza. Il problema del Jobs Act, per sintetizzare, è che mentre si è intervenuto molto sul piano della flessibilità, quindi facendo perdere una serie di diritti ai lavoratori, non c'è la stessa attenzione, almeno fino ad ora sul piano legislativo, ai profili della sicurezza. E questo anche sul piano costituzionale crea una serie di problemi.